Anche quest'anno il Comando Generale dell'Arma ha realizzato il suo calendario, la sua 89esima edizione, un calendario improntato all'arte con due grandi artisti, Sandro Chia, un pittore, e Carlo Lugarelli, lo scrittore, in cui in qualche maniera rievocano i 200 anni del nostro regolamento generale attraverso i compiti che l'Arma nel tempo svolge e che sono sempre attuali, rievocando con immagini suggestive e racconti altrettanto suggestivi di quello che i carabinieri compiono e hanno compiuto. Quindi attraverso questi 200 anni la storia dell'Arma, ma anche la storia dell'Italia. Quindi un momento per rievocare quello che l'Arma compie quotidianamente. 200 anni racchiusi in 12 mesi, densi di immagini, storie, colori ed emozioni, per raccontare come nel corso del tempo l'Arma dei Carabinieri sia cambiata e si sia evoluta, restando sempre però fedele alla propria vocazione, difendere e aiutare. Sino ad arrivare all'attuale hashtag, possiamo aiutarvi, un invito a chiamare senza problemi il 112 per segnalare situazioni sospette, chiedere aiuto o consigli. È stato presentato martedì 16 novembre al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rovigo, dal colonnello Emilio Mazza, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2022, che celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell'Arma. Anche con questa edizione si prosegue il cammino intrapreso due anni fa, continuando ad arricchire racconti di narrativa contemporanea, compregiate tavole di maestri della transavanguardia.